Volevamo fortemente la riforma di questo ente che era disciplinato da una legge ormai datata degli anni Ottanta e quindi ritenevamo che c'erano delle criticità di funzionamento e quindi con questa legge vogliamo un attimino riaggiornare le funzioni importanti di questo ente e soprattutto voglio ribadire che è stata un'iniziativa fortemente voluta dalla Lega che non è stata imposta da una norma di un ente sforordinato così come delle volte si fanno delle riforme. Con questa legge questi enti diventeranno più efficienti, ci sarà maggiore trasparenza e anche un risparmio economico e sono felice come capogruppo perché tutto il gruppo ha supportato l'iniziativa dell'assessore Imprudente con un grande lavoro anche da parte della Commissione del Presidente Di Matteo quindi un lavoro di equip che ha portato questa riforma che va a tutelare maggiormente il mondo agricolo abruzzese.